È passato oltre un mese dalle dimissioni al Comune di Edano dell'assessore e vicesindaco Angela Anzalone e di Maurizio Zignale. Vediamo che passi sono stati fatti, credo pochi, vediamo se ce lo conferma anche l'assessore, ex assessore Angela Anzalone. Com'è la situazione oltre un mese dalle vostre dimissioni? Ma la situazione è completamente ferma e la cosa ci stupisce perché ovviamente un sindaco deve porsi il problema e deve trovare le soluzioni a determinate situazioni perché l'atto di gestione è suo, tra l'altro anche responsabile come delega anche il personale, deve porsi appunto il problema di dare una risposta a un gesto forte. Noi non possiamo pensare che in termini di opportunismo il nostro appoggio è stato fondamentale nel momento in cui noi chiediamo un cambio di passo forte, decisivo, per dare slancio a questa città perché noi siamo entrati con un progetto, noi ci crediamo nello sviluppo di questa città. Non sembra in effetti che anche il sindaco ci crede perché tra l'altro io c'è proprio una cosa che non riesco a digerire, che abbia avallato per esempio il carnevale in altri paesi, cioè per me questo è inconcepibile, assurdo, in chi invece dovrebbe dare forza al proprio paese. Ritengo inoltre che ci sia una mancanza di lealtà istituzionale, non personale, istituzionale, perché il sindaco come tale ha l'obbligo di fare riferimento a questa parte politica a cui ha chiesto il consenso e deve necessariamente rivolgersi alle persone preposte a questo ruolo. Invece sembra che si rivolga, chiamando i vari consiglieri comunali, quasi in un atteggiamento di compravendita. Allora, diciamolo chiaro, i nostri consiglieri comunali sono di altra pasta. In questo momento Adrano è in una fase di stasi terribile, diciamo paralizzata. Allora, noi non ci rassegniamo perché se siamo ancora qui a chiedere questo cambio di passo è perché lo vogliamo fortemente, perché noi abbiamo contribuita a dare una risposta alla città e lo faremo. Cioè, troveremo le soluzioni o obbligheremo chi sta al governo. Io rappresento una parte di elettorato che vuole governare la città e che ha contribuito a questo. Domani c'è la prossima seduta consigliare. Possiamo anticipare quale sarà l'atteggiamento dei suoi consiglieri? Qui si vuole il cambiamento totale. Allora, o c'è un cambio di marcia o i nostri consiglieri non si adegueranno a questo trantrani inutile che fa vivere la città magari di atti amministrativi normali come quale può essere riparare una buca che ci sta o riparare un edificio. Allora, a noi serve un progetto per dare vita e far rivivere questa città. E i nostri consiglieri sono perfettamente in questa linea. Poi ci tengo anche a far conoscere ai cittadini di Adrano quella che è una risposta datami da un dirigente a cui avevo scritto per quanto riguardava i progetti che avevo inoltrato perché fossero realizzati. Bene, questa ci tengo anche a precisarla. Vorrei che anche il sindaco evitasse di far fare figuracce agli amici consiglieri i quali si stracciano le vesti. Bene, io avrei voluto che lui leggesse ai suoi consiglieri quanto scritte in questa lettera. Leggo soltanto qualche passo. Il dirigente mi dice avrà rilevato e constatato anche il numero, il peso e la complessità degli innumerevoli procedimenti affidatemi che nell'occasione ritengo necessario sottolineare nell'intento di chiarire il quadro oggettivo dell'attività posta in essere e della necessità di operare un significativo alleggerimento. Soltanto questo poi dice avevo colto con favore le voci che davano per imminente una nuova rimodulazione degli assetti organizzativi della struttura burocratica, nell'ambito della quale si prospettavano distribuzione dei carichi di lavoro più equi ed equilibrati. E quindi quello che noi chiediamo non è soltanto una nostra necessità, ma è una necessità diciamo generale di quello che deve essere un nuovo riordino della macchina. Maurizio Zignale si è parlato moltissimo in queste settimane di questo famoso tavolo tecnico. Insomma perché questo tavolo non si costruisce? Cosa occorre? Me lo chiedo anche io, anche se facciamo riferimento all'intervista del coordinatore dell'NCD, proprio del partito del sindaco, in cui auspicava quindi l'incontro, l'apertura con ovviamente la nostra parte politica e riteneva anche opportuna e evidenziava lui stesso l'importanza di simmachia e azioni civiche ovviamente nel governare. Quindi se il tuo stesso coordinatore ti chiede di aprire un tavolo tecnico, ad oggi stiamo aspettando, quindi non abbiamo notizie, chissà perché? Dovremmo chiederlo direttamente al sindaco.